Buona giornata! Prima di parlare chiediti, è gentile? È necessario? È vero? È meglio del silenzio? Satia Sai Baba, con questa frase forse un po' irrivenente, ti voglio dire, prima di parlare, prima di rompere il silenzio, chiediti se quello che stai per dire è gentile, è necessario e soprattutto è vero. Ma principalmente, ancora più importante, sì è meglio del silenzio. Perché tante volte il silenzio non è quella cosa da rifugiere a tutti i costi e tante volte, lo so, mi ci metto anch'io, metto la musica, metto tutta una serie di cose, ho voglia di parlare, ho voglia di parlare con la gente e è importante parlare, è importante confrontarsi con la gente, ma tante volte è importante anche il silenzio, è importante imparare a meditare, perché per esempio meditare non è silenzio, non è solo stare in silenzio, meditare è una cosa fantastica, perché meditare riempie il silenzio di meraviglia, di gioia di cuore, di non so neanche che cosa, perché meditare è un'esperienza unica. Quindi se vuoi imparare a meditare, qui sul canale trovi varie meditazioni, però l'importante è cominciare ad affrontare quel mostro che è il silenzio, infatti sul canale appunto trovi meditazioni, meditazioni guidate, quindi che ti aiutano, ti guidano ad imparare a meditare. Poi quando avrai imparato, non ci sarà più bisogno di usare la meditazione, ma semplicemente ti basterà stare nella natura, trovare un posto bello e tutto sarà facile, sarà semplice, non ci avrai bisogno di niente. Quindi oggi impara a fare i conti col silenzio. Daniele Paci, per felicità e pace. Buona giornata, ciao!